Oggi si è aperto ufficialmente il mercato in entrata di Pallacanestro Varese, il primo giocatore è Justin Gray. Qual è la descrizione di questo giocatore e cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni? Sì, per Justin è un giocatore molto forte e anche lui può tirare. Queste sono due cose molto importanti per noi e questi sono i due principi per quest'anno, per la prossima stagione. Nel prossimo giorno abbiamo qualche giocatore nel nostro focus e vediamo, niente finale, ma abbiamo bisogno di lavorare in questa area per una pivot, per altri wing, per altri ball hander e anche abbiamo bisogno di confermare qualche giocatore dell'anno scorso.